Cultura. Ogni prima domenica del mese i residenti di Firenze e dei comuni della città metropolitana possono visitare gratuitamente i musei civici fiorentini. È questa l'opportunità offerta a cittadini e famiglie del territorio da un evento a loro dedicato, la domenica metropolitana. L'appuntamento, che si ripete 12 volte in un anno, la prima domenica di ogni mese, è nato su delibera di giunta del Comune di Firenze. Cittadini e famiglie provenienti da ogni zona della città metropolitana, dalla Valdelsa al Chianti, possono visitare con accesso libero il Museo di Palazzo Vecchio, la Torre di Arnolfo, gli scavi archeologici di Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, il Museo Stefano Bardini, la Fondazione Salvatore Romano, il Museo Novecento, la Cappella Brancacci e la Torre di San Nicolò. Luoghi ricchi di storia e di cultura, che, anche se noti, offrono stimoli sempre nuovi e interessanti per tutti, e che vale la pena visitare più e più volte. Oltre ai semplici accessi ai musei civici, con la domenica metropolitana si può usufruire di ulteriori attività e servizi specifici ideati e promossi da Muse Firenze. Si tratta di eventi gratuiti su prenotazione, quali laboratori didattici per bambini e ragazzi, o tour speciali e interattivi legati alle esposizioni temporanee. Sono inoltre allo studio, sempre a cura di Muse Firenze, specifiche iniziative di valorizzazione e percorsi didattici per promuovere la conoscenza della storia e delle meraviglie artistiche di Palazzo Medici Riccardi, sede della città metropolitana di Firenze.